Per quanto riguarda la partita di oggi, città di Reno, la Sterparo, diciamo che il risultato racconta in parte la facilità della gara, anche se lo Sterparo è una buona squadra, ha delle buone individualità, forse oggi non si sono espressi al massimo, ma venivano anche dalla grande impresa fatta a Cassini in Coppa. C'è stato qualche avvicendamento da parte del mister Loro, a noi diciamo che la partita si è messa in discesa, con un risultato parziale 3-0 a fine primo tempo e poi ci ha permesso di gestire al meglio la gara e controllarla. Sicuramente non ci può far sorridere, in quanto una rondine non fa primavera e una vittoria non cambia all'inizio di una stagione, anche se noi ancora siamo imbattuti e dopo i due pareggi dove siamo stati raggiunti per fortuna o meriti non dalla squadra avversaria, oggi questo risultato ci serviva per far sì di iniziare un campionato con il vento giusto.